vedo gli atleti che stanno arrivando provati ma molto soddisfatti vedo molti sorrisi non so se sono sorrisi o se sono ghigni o se sono smorfie però li vediamo molto soddisfatti bravi ragazzi questa ripartenza diciamo anomala del trofeo provincia di trieste a fine agosto in serale direi che ancora una volta ha fatto centro grande successo di partecipazione di questo primo trofeo sport gara organizzata ripetiamo per l'ennesima volta da tutte le società del comitato del trofeo un'esperienza assolutamente da ripetere